La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, ha eseguito un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti del titolare di un'azienda agricola indagato per intermediazione lecita e sfruttamento del lavoro. L'attività investigativa delle fiamme gialle di Gela ha permesso di fare piena luce sullo sfruttamento di 21 lavoratori di nazionalità italiana ed extracomunitaria. In particolare, la persona tratta in arresto era solita assumere braccianti agricoli da destinare alla coltivazione e alla raccolta di frutti e ortaggi all'interno delle serre e sui campi di proprietà, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Le vittime sono persone che versano in condizioni di grande difficoltà economica e senza un'occupazione stabile, che accettavano quindi condizioni di lavoro imposte dal titolare dell'azienda agricola, con paghe palesemente inferiori a quelle previste dai contratti collettivi. Nel corso dell'operazione, inoltre, l'azienda agricola di proprietà del responsabile, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata posta sotto sequestro.